I comuni non pagano la depurazione ma pretendono il mare pulito. È da un po' di tempo che seguiamo le vicende della piattaforma depurativa di Lamezia. Cinque comuni collettati, quasi tutti morosi nei confronti della DECA, la società di gestione del depuratore. Tra i più morosi, il comune di Filadelfia. Siamo andati a trovare il sindaco, Denisi, e gli abbiamo chiesto le motivazioni di questo debito. Come mai allo stato attuale risulta un debito di quasi 280 mila euro? Un'inadempienza da parte del comune di Filadelfia nei confronti del Corap, perché adesso c'è il Corap, no? E perché nell'ultimo comunicato della Will Trasporti, Fraone, che è un sindacalista, scrive, leggo testuale, denuncia con sdegno l'atteggiamento di assoluto e persistente disinteresse assunto da parte delle amministrazioni comunali che usufruiscono del predetto servizio di gestione, quindi della depurazione, con alcune amministrazioni, Filadelfia scrive, quindi si riferisce proprio a lei, che considerano ormai un diritto acquisito il mancato pagamento del servizio depurativo. Perché specificatamente con lei, sindaco? Non so se adesso l'azione di Fraone è mirata semplicemente a Filadelfia oppure agli altri comuni che confluiscono all'impianto della zona industriale della mezza terme. Con Fraone abbiamo discusso diverse volte, ci siamo impegnati per un piano di rientro fattivo. Purtroppo noi come amministratori andiamo incontro a tagli, ad incombenze che ci pongono davanti delle scelte. Dobbiamo decidere effettivamente con le disponibilità che abbiamo a quali servizi dare una priorità. Resto il fatto che la depurazione va fatta, loro il servizio lo danno, lo svolgono anche bene da quello che ci risulta, perché poi le analisi che pubblica l'ARPACAL dimostrano che tutto è a posto, che i parametri sono all'interno dei limiti di legge. Quindi con Fraone, che ci sentiremo sicuramente nei prossimi giorni, ufficializzeremo un piano di rientro fattivo appunto per il Comune di Filadelfia. Perché non c'è l'intenzione di non pagare? No. Perché no, da come aveva scritto Fraone sembrava come se lei si fosse così impuntato? Fraone, un anno e mezzo fa praticamente abbiamo verificato che il Comune di Filadelfia aveva delle discordance sulle letture, sulle letture praticamente dei metri cubi all'uscita. E quindi per quello noi abbiamo detto, ci siamo dati un periodo di monitoraggio per verificare l'attendibilità dei dati e quindi abbiamo sospeso i pagamenti, non volutamente ma sia per necessità che per verifiche tecniche appunto. La DECA, vista la questione del debito, nel suo Comune il 17 ottobre 2016 ha richiesto di nominare un commissario in sostituzione dell'amministrazione comunale proprio per dire voglio rientrare dal debito. Voi vi siete opposti subito dopo, in data 28 ottobre 2016, ora la DECA si rivolgerà anche al TAR, sicuramente dicono che avranno ragione della questione, loro vogliono nominare un commissario, però lei mi sta dicendo attenzione col commissario, io sono disponibile a rientrare economicamente, il commissario non ce n'è necessità, giusto? E' questo il concetto? Noi dimostreremo nei prossimi giorni, perché sono in progetto di arrivare ai trasferimenti, il fondo di solidarietà per fine mese dovrebbe essere accreditato e quindi sicuramente provvederemo a dimezzare più il debito. Allora, questo allora ci tranquillizza da una parte, no? Sì, possiamo tranquillizzare. Senta, è un'altra cosa che voglio chiedere, è stato fatto un accordo, visto che il Corap è lento a pagare, no? Sì. Sa le difficoltà che ci sono del Corap, anzi noi abbiamo affrontato giornalisticamente la questione Corap. L'accordo che è stato fatto è questo, la DECA dovrebbe fatturare direttamente ai comuni il solo servizio, è stata fatta anche una riunione in prefettura. Chiaramente bisogna effettuare una delibera di giunta per questo piccolo cambiamento di accordo, per cambiare la convenzione, ecco questo è il termine giusto. Falerna e Gizzeria lo stanno facendo, la Mezzia è già in giunta, è pronta la delibera, lei si sta organizzando in tal senso per effettuare la fatturazione perché la DECA fatturi direttamente al Comune? Sì, anche noi predisporremo nei prossimi giorni la delibera per autorizzare la fatturazione diretta da parte della DECA, quindi per noi nei fatti non cambia, il servizio va pagato. Quindi prima giunta e poi consiglio comunale mi pare che sia... Va ratificato in consiglio. Va ratificato poi in consiglio, quando lo farà? Nella prossima settimana, potete verificare sull'albo online del Comune. Perfetto, lo verificheremo. Le chiedo un'altra cosa, perché questi comuni piccoli hanno così questa difficoltà? La depurazione comunque è importante, lei dice ci sono forse priorità, le difficoltà sono tante, lei da quando amministra? Dal 2011. Che difficoltà riscontrate? Praticamente abbiamo subito un taglio enorme dai trasferimenti e quindi il mantenimento dei servizi, abbiamo cercato di dare continuità ai servizi, però il taglio che abbiamo subito nei trasferimenti ci ha portato a tagliare il saldo dei servizi. Non dipende da noi, però i comuni piccoli ne risentono maggiormente, avendo poche entrate, non avendo attività produttive che ci permettono di risanare i bilanci, quindi siamo costretti a sopravvivere. L'unione dei comuni può essere una possibilità, è una possibilità per poter ridurre le spese? Più che l'unione io sono per la fusione, affronterei un discorso più concreto, perché l'unione si creerebbe un altro ente, l'ho visto, abbiamo studiato questa possibilità, abbiamo visto le esperienze che ci sono dell'unione dei comuni, si va a creare un ente sopracomunale, quindi diciamo che l'unione non tanto, ma la fusione sì. E per esempio Filadelfia con chi si potrebbe fare? Qua diciamo per caratteristiche, per posizione siamo obbligati con Francavilla e Polia, Francavilla Angito e Polia. Quanti abitanti fa Filadelfia? 5.400. Quindi farebbe un bacino? Un bacino di circa 9.000 abitanti. Va bene, grazie, grazie a voi.